Quill Kips, un appendice ambulante. Qualcuno dovrebbe tagliarti via. Non ho intenzione di lavorare con te. Speravo lo dicessi. Rendiamo le cose più interessanti. Una gara per trovare lo specchio. Chi perde dovrà pubblicare un annuncio sul Times per congratularsi col vincitore. Intera pagina. Cresci un po', Tony. Ma ecco i termini. Chi perde lascia e non lavorerà più nel settore. Londra sarà una città più sicura con in giro tre incompetenti in meno. Ci stai? Che problema c'è, Tony? Credi di non farcela? Oh, non posso crederci. Goditi il tuo ultimo caso.